prima si andava a letta a mezza, a notte a mezza, si faceva l'amore fino alle 3 adesso lei va a dormire quando è tardi alle 21.08 quando arriva alle 21.20 e proprio pepepepepepepepepepe tu rimani da solo sul divano, col telecomando, tuo unico amico con gli acari della polvoi, vedete che da sotto il sedere ti fanno alzati fatti una vita, vai, corri che noi stavamo qua prima di te Tu ci provi a vedere se c'è vita, srotoli la prolunga della tua lampada.